Allora è un grande piacere per me oggi presentare questi nostri due allievi del master, ex allievi del master in Digital Humanities dell'Università Ca' Fosca di Venezia, allievi eccellenti che hanno prodotto anche già pubblicazioni, hanno partecipato a convegni e attualmente stanno svolgendo un dottorato a Catania per quanto riguarda Cristian in scienze dell'interpretazione e a Verona per quanto riguarda Paola in Filologia Germanica. Non sottraggo ulteriore tempo e passo immediatamente la parola a Cristian, che parlerà in italiano. Il secondo intervento sarà in inglese. Faccio partire un secondo la condivisione dello schermo. Ditemi se si vede. Si vede. Perfetto. Dunque appunto, io sono Cristian, parlerò in italiano fondamentalmente perché il tema del mio intervento si occuperà di indagare le varianti nel nome della dosa, cioè l'opera più importante di Umberto Eco. Quindi si tratta di italianisti che per questo ho preferito usare la mia lingua, usare l'italiano, anche perché poi inizieremo un percorso attraverso la storia dell'ermeneutica per arrivare alla notazione attraverso l'euporia e quindi attraverso DSL del nome della dosa e delle varianti. Progetto che è nato a Venezia durante il master, anche con una collaborazione con Federico Boschetti e il CNR, che poi è proseguita, sta proseguendo appunto durante il dottorato. Questa prima parte, l'intervento sarà in due parti distinte, una prima che riguarderà la storia dell'ermeneutica e la sua possibile applicazione alle digital humanities e in particolare ad euporia, e poi invece una prima parte di stampo più teorico e una seconda parte invece più pratica, in cui spiegherò la notazione attraverso l'euporia e in sostanza rifletteremo insieme su alcuni aspetti. Perché ermeneutica? Perché partire da questa scienza di interpretazione che nasce fondamentalmente sin dall'ermeneutica biblica, ma che poi dal punto di vista filosofico ha avuto i suoi sviluppi da Schleier-Macher in poi, fino al ruolo fondamentale che ha avuto nel Novecento con Heidegger e Gadamer. Perché? Perché il circolo ermeneutico è una metafora, in qualche modo, che viene utilizzata anche nelle digital humanities in questi ultimi anni. Questa immagine viene presa da un saggio di Piper, Immorations and Dad and Literary Studies, del 2018, in cui nell'introduzione presenta il modello che lui ha seguito per i suoi studi, che è quello proprio del circolo ermeneutico, in cui è il circolo ermeneutico tradizionale, per cui si parte dal tutto per arrivare alla parte e poi dalla parte al tutto in una sorta di circolo. Ma, ed è qui uno dei meriti di Piper, la riflessione è più ampia la sua, perché parla proprio di vedere proprio un modello, che attraverso il distant reading, la misurazione, e poi invece andando con il close reading e l'interpretazione, si tratta di ricostruire il modello, di rimodellare, e a sua volta continuare questo sorta di rapporto tra close e distant, tra interpretazione, comprensione, credenze, misurazioni, quindi questo, sostanzialmente, questo circolo positivo. Iniziamo però ad andare, in qualche modo, a trattare la storia di questo circolo, e in particolare Gadamer, che è l'autore fondamentale, che nel novecento ha, in verità e metodo, ha riflettuto sul circolo ermeneutico, sostanzialmente lo fa partire da Schleyermacher. Schleyermacher, che dice, Gadamer, parla della struttura fondamentale della comprensione, è quello ripetuto andare e venire dalle parti al tutto, e dal tutto alle parti. Questo, come ben comprensibile, riguarda invece nel digital umanity quel rapporto tra distant e closed, quindi tra micro e macro. Ma Schleyermacher, inoltre, sostiene che questo circolo non è un circolo, in qualche modo, vizioso, ma è un circolo che si allarga continuamente, perché ogni qualvolta si va dalla parte al tutto, si scoprono nuovi elementi e sempre più si allarga questo circolo. Circolo ermeneutico, ed è qui il punto fondamentale, che però se è una tecnica dell'interpretazione, nel novecento, grazie ad Heidegger, diventa qualcosa di più, diventa in qualche modo l'elemento fondamentale della sua filosofia, la sua filosofia, in particolare la prima fase della sua filosofia, e quindi della comprensione dell'essere umano, dell'esserci. Infatti, sostanzialmente, Heidegger dice che l'uomo, l'esserci, è un progetto gettato, e proprio la struttura fondamentale di questo progetto gettato è quello del circolo ermeneutico, del rapporto, in qualche modo, tra precomprensione e comprensione. Heidegger dice che il circolo ermeneutico, e quindi noi in qualche modo veniamo al mondo in una struttura già precostituita, e noi muoviamo i primi passi imparando e prendendo in prestito la parola degli altri, però la facciamo diventare nostra. Ed è qui l'elemento molto, molto importante di Heidegger, cioè il fatto che, nonostante noi siamo gettati in una precomprensione, questo circolo ermeneutico non è vizioso, e non è neppure un inconveniente. Dire che noi, in qualche modo, siamo intessuti di precomprensione, e anche di pregiudizio, di per sé non è un errore, ma è il necessario riconoscimento di una stessa struttura della nostra comprensione. Noi partiamo sempre dalla parola che è stata detta dagli altri, e dobbiamo partire da quella per poter dire la nostra parola. E quindi, però, Heidegger dice, e questo è il punto fondamentale, che l'interpretazione deve capire che il suo compito primo, permanente ed ultimo, è quello di non lasciarsi, ma imporre predisponibilità, preveggenza e precondizione, dal caso, dalle opinioni comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse. E' questo uno dei punti su cui, tra poco torneremo, che è questo emergere dalle cose stesse. Gadamer riflette su questo aspetto e dice, ma che cosa vuol dire questo alle cose stesse? Un'interpretazione deve difendersi dall'arbitraietà, dalle abitudini mentali, le quali, quelle cose stesse, per i filologi, sono i testi forniti di senso, che alla volta parlano di cose. Ciò che egli ha da fare, infatti, è tener fermo lo sguardo al suo oggetto, ricordiamo l'oggetto, superando le confusioni che provengono dal proprio intimo. Chi si mette a interpretare, inoltre, attua sempre un progetto. Quindi vediamo come ci sono altri due elementi che vengono dalla luce in questa riflessione, c'è il fatto che bisogna guardare l'oggetto e bisogna avere un progetto. Altro elemento fondamentale in Gadamer è il ruolo dell'applicazione, dell'applicazione alla situazione concreta. Cioè l'ermeneutica non deve partire dal fatto che comprendere un testo vuol dire fare finta che quel testo sia un prodotto astorico, scritto in un determinato momento, che non ha niente a che fare con noi. Ma sempre, in ogni atto di comprensione, vuol dire applicare alla nostra situazione attuale, alla nostra situazione ermeneutica concreta, all'oggi, alla nostra condizione. Infine, e adesso poi prenderemo tutte queste cose che abbiamo detto e le ricostituiremo in un'ottica in un'orizzonte di Digital Humanities, infine, per fare questo, cioè per stare, per guardare all'oggetto, per avere un progetto, per ritornare alle cose stesse, il punto fondamentale di ogni esperienza, di ogni lettura, di ogni applicazione è quello di partire dalla domanda. Non si fa un'esperienza senza porre domande. Alla domanda è essenziale, però il fatto di avere un senso, senso significa direzione, il senso della domanda è quindi la direzione nella quale la risposta si può trovare. La domanda è una determinata, origine, disloca in una determinata prospettiva l'oggetto. Ed questi sono i punti fondamentali. A questo punto devo chiedere, dopo questa piccola storia dell'ermeneutica in cinque minuti, perché è importante per noi? Che cosa può dire questo, che sostanzialmente sono dei concetti filosofici, cosa ti può dire, come possiamo applicarla ai nostri studi? Partiamo dalla precomprensione. Noi siamo sempre all'interno di un orizzonte di precomprensione, quando lavoriamo nelle digital, quando lavoriamo in qualunque ambito. Per esempio, una possibile traduzione di questa precomprensione nelle digital possono essere gli standard, le migliori pratiche, ma anche la letteratura secondaria. Cosa significa applicazione? Applicazione significa partire da uno standard, per esempio, e applicarla alla nostra condizione e quindi costruire una codifica, costruire una notazione, costruire anche una codifica attraverso DSL. Il progetto cos'è? Cosa può essere? Può essere quel modello del testo, quella nostra rappresentazione che noi diamo al testo, ma anche, in senso di progetto, di output desiderato, quello che noi vogliamo ottenere dal nostro oggetto. E infine la domanda, che è il punto essenziale, le domande di ricerca, gli obiettivi, le query che noi vogliamo fare al nostro testo. E quindi, proprio partendo da questa riflessione, un'ipotesi di circolo ermeneutico per eupodia può essere questo, a mio modo di vedere. Partire dalle domande di ricerca, che deve essere il punto iniziale. Essere consapevoli della precomprensione, per esempio essere consapevoli degli standard per cercare di rispondere a quelle domande di ricerca, degli strumenti per rispondere a quelle domande di ricerca. Nel caso di eupodia, applicazione però significa anche costruire un certo tipo di annotazione attraverso un nostro linguaggio, cioè applicare alla nostra situazione concreta, venendo dalla precomprensione, venendo anche quindi dagli standard, dai modelli passati, ma costruendo ciò che a noi serve per il nostro oggetto, per rispondere alle nostre domande. E infine il modello di annotazione è output. Tutto questo significa un modello di annotazione, un modello anche che ci possa permettere di rispondere a quelle domande, ottenendo gli output che desideriamo. Questo per farlo, ed è questo un altro punto che su eupodia è fondamentale, a mio modo di vedere, sono i cicli di revisione. Questi partire dalle domande, ma poi si può ritornare alle domande, si può ritornare alla TEI, si può ritornare e ricontrollare e modificare il DSL, il nostro linguaggio. È fondamentale anche nel nostro orizzonte, nel progetto che abbiamo fatto per eupodia, e anche il confronto continuo tra il DSL, quindi il linguaggio specifico di dominio, e la TEI. Perché la TEI, essendo uno standard, noi è in qualche modo la lingua franca, noi vogliamo comunicare con la comunità in questo modo, però il DSL ci permette di guardare al nostro oggetto, ottenere ciò che noi desideriamo, e poi però comunicarlo come una lingua che è il più possibile comune. Questa è stata questa prima fase, ma questa mia riflessione teorica, che spero vi abbia interessato, vi abbia convinto dal punto di vista dell'inquadramento teorico, effettivamente l'ho messo in pratica attraverso l'annotazione delle varianti del nome della rosa con eupodia. Cerchiamo di andare veloce, perché il tempo non è moltissimo, però abbiamo detto che dobbiamo partire dalle domande di ricerca. Quali sono state le domande di ricerca quando abbiamo iniziato a pensare il nostro progetto? Il fatto che, partendo da una citazione, la citazione con cui si conclude il nome della rosa, stata rosa pristina nomi e nomina nudat nemus, che vuol dire che la rosa primigenia esiste solo nel nome, noi abbiamo solo nomi, ed è una riflessione che parte dal fatto che tutto ciò che noi diciamo per nome parlano di enti che sono ormai lontani nel passato e che non esistono più, la rosa non esiste più, è la primissima rosa se non nel nome. Il fatto che questa cosa vale anche per i testi. Noi, per esempio, quando parliamo del nome della rosa, noi stiamo parlando di un libro, ma in effetti è il primissimo libro, cioè l'edizione del 1980, in realtà è un po' diversa rispetto all'edizione che leggiamo noi oggi. Questa è una questione filologica fondamentale. Noi parliamo del nome della rosa come se fosse un'entità astratta, ma in realtà è un testo storico che ha avuto diverse redazioni e che attualmente nella sua ultima redazione è diversa rispetto alla sua prima. Già anticipo che non è un altro libro assolutamente, è sempre lo stesso, ma ha diverse varianti molto interessanti, diverse correzioni, che in qualche modo lo rendono un po' diverso e che l'esperienza che si fa, chi ha fatto, chi ha letto nell'80 rispetto all'esperienza di oggi è quasi uguale, ma non è uguale, perché c'è qualcosa di diverso. Questo perché è facilmente spiegabile, in particolare ci sono due edizioni major, potremmo dire, l'edizione dell'80, ma l'edizione del 2012, che è dallo stesso eco nominata come prima edizione riveduta e corretta, cioè si è occupato di rileggere e modificare integralmente il testo in quei passi che non lo convincevano più, soprattutto per cercare di evitare ripetizioni, ma vedremo. Sostanzialmente, questo perché? Perché è nata questa domanda di ricerca? Perché in realtà quando uscì nel 2012 questo testo c'era un acceso dibattito sui quotidiani nazionali e internazionali. Si parlò di semplificazione, si parlò addirittura di riscrittura per i nativi digitali, intendendo i nativi digitali come dei deficienti che non potevano più leggere un libro complesso come il nome della rosa, cosa che in realtà sappiamo e eco ha detto ampiamente è falsa. Si è trattato semplicemente di un alleggerimento di alcune parti troppo verbose e di alcune correzioni, errori e ripetizioni. Ma è davvero così? È questa la vera domanda. Siccome la critica letteraria ha ignorato questo testo fondamentalmente, a parte un paio di casi come il caso di Bruno Pischedda, la domanda di ricerca è partita da è vero che il libro è stato semplificato, è come hanno detto i giornali, quindi come una notizia sensazionalistica, oppure è invece come dice eco, come dice Pischedda, cioè che si tratta solitamente di un'attenuazione di alcuni inserti, ci sono stati degli alleggerimenti degli elenchi, eco stesso dice addirittura è una cosa di poche righe e vedremo che neanche eco dice la verità da questo punto di vista. Quindi, la domanda che testoleggiamo noi oggi è diventata ma il nome della rosa è stato semplificato? Vedete come il circolo non va semplicemente da una fase all'altra in maniera univoca ma può anche tornare indietro, cioè uno parta dalle domande di ricerca ma attraverso la precomprensione di quello che ha e per esempio leggendo la letteratura secondaria può costruire nuove domande di ricerca. Un'altra precomprensione, come fare però a capire se il test è stato semplificato o no? O abbiamo deciso di utilizzare le marche d'uso del Gradit, il grande dizionale dell'uso di De Mauro che raccoglie 130.000 lemmi e per ogni lemma indica la marca d'uso, cioè se è fondamentale e quindi è frequentissima oppure se è comune, se è di uso letterario, se è di basso uso, se è un lemma obsoleto o tecnico specialistico. Proprio perché? Per avere un, per basarsi su qualcosa di concreto, avere delle marche da poter utilizzare ed è qui fondamentale da questo punto di vista la precomprensione. Ultimo passo della precomprensione è quello del fatto che la filologia, in particolare la filologia d'autore, ha già delle proprie metodologie, ha per esempio i propri apparati critici. Questo è un apparato critico preso dal testo che cos'è la filologia d'autore di Paola Italia e Rabboni della Calocci. Vedete a destra la poesia di Giacomo Leopardi, La luna, la ricordanza, nell'apparato critico che si occupa soltanto del titolo si vede come nella tradizione è la luna, la ricordanza, però nella prima fase avevamo la luna, nella seconda fase la luna, la ricordanza con la ricordanza che viene aggiunta, nella terza fase invece tagliata la luna abbiamo la ricordanza. E questo è l'apparato critico così come è tradizionalmente intenso. Quando qualcuno deve andare a costruire una propria notazione è importante utilizzare, come abbiamo spesso detto, i metodi già che vengono utilizzati dai filologi che sono stati dalla tradizione considerati in questo momento i migliori. In basso vedete la stessa la stessa apparato critico costruita attraverso dei e capiamo se per un filologo tradizionale istantaneamente il primo apparato è comprensibile chiaramente il secondo invece per chi non è un filologo tradizionale non si capisce molto bene è chiaro è un apparato con il proprio luogo in cui c'è un'edizione messa l'emme l'edizione scelta che però c'è una sequenza di varianti ci sono diverse mani però è tutto più in qualche modo un po' più complicato per questo ed è qui arriviamo al momento dell'applicazione cioè della nostra concreta annotazione abbiamo cosa abbiamo scelto di fare con euforia a fare una sorta di apparato critico che però rispondesse alle nostre domande le nostre domande non erano soltanto costruire un apparato critico ma era il testo è stato semplificato e quindi costruire un linguaggio che permettesse di rispondere a queste domande di costruire un'annotazione che fosse il più semplice e immediata possibile poi abbiamo lavorato così sulla sinistra avevamo il testo con l'ITX con l'azione automatica che mostrava in rosso l'edizione dell'80 e in blu l'edizione del 2012 quindi tutte le correzioni le cancellazioni le aggiunte e sulla destra si annotava attraverso un linguaggio che adesso andrò a spiegare più nello specifico molto velocemente in sostanza la nostra annotazione si occupa di fare questo il numero della variante all'interno del testo le varianti che erano coinvolte uguale un tag generico con o con l'hashtag oppure con un altro simbolo del paragrafo per il tag interpretativo il lemma singolo e la marca d'uso quella del gradit che abbiamo precedentemente detto quindi basso uso alta disponibilità vediamo degli esempi sotto tormentando le parentesi graffe vuol dire eliminato quindi tormentando il studio eliminato uguale tag interpretativo questo è un appiattimento perché poi ho costruito una sorta di gerarchia di linguaggio di dizionario anche per ogni modifica che adesso andiamo a verificare tormentando di nuovo il lemma quindi singolo e letterario marca d'uso letterario ancora più chiaro il secondo esempio con asserragliati con cancellato quindi nell'edizione dell'80 diventa nell'edizione del 12 quindi viene aggiunto assediati dal quindi la la spiegazione è che c'è stata una rimozione per semplificazione tag interpretativo perché semplificazione perché il lemma assediati che è basso d'uso è stato sostituito con il lemma scusate asserragliati che è basso d'uso è stato sostituito con assediati alto uso alta disponibilità che cosa significa questo perché dico questo perché è una sorta di espressione cioè a sta a b come c sta a d quindi asserragliati è il primo elemento dell'espressione sta al secondo quindi sostituito col secondo la marca d'uso del primo è la marca d'uso del secondo quindi basso uso sta per asserragliati la marca d'uso di asserragliati a d alta disponibilità è la marca d'uso di assediati e quindi se una parola a basso d'uso è stata sostituita con una più frequente utilizzata in maniera più frequente ad alta disponibilità si tratta nella mia nella mia teoria di una semplificazione perché il testo ecco corregge inserendo una parola più frequente del lessico più comune rispetto a una parola più rara altre cose che mi servivano e mi interessavano capire se queste varianti queste semplificazioni avessero un personaggio in particolare vuole essere un topic o un subtopic in particolare ed è per questo che abbiamo utilizzato un tag zero sostanzialmente in cui esplicitavamo emittente destinatario topic subtopic inoltre stessa cosa l'esempio è per esempio chiocciolina per indicare l'emittente in questo caso il narratore sempre il segno del paragrafo per indicare il topic storia il subtopic eresia cioè la storia dell'eresia quindi questa forma strutturata andiamo abbastanza procedendo questo già l'ho un po' spiegato in precedenza lo richiarisco si trattava di quattro possibilità di variazione e dell'eliminazione ad aggiunta subs sostituzione tras protasposizione nel caso della cancellazione la rimozione si trattava di mettere le parentesi graffe nel caso dell'aggiunta si trattava di mettere minore maggiore nel caso di invece sostituzione si metteva come la forma dell'espressione ad mostro sta a b che viene aggiunto il tag che si riferisce a quindi la marca d'uso è il b invece avevamo utilizzato un ulteriore metodo per indicare la trasposizione come vedete in basso tag intertellativi vi ho spiegato le marche d'uso come vedete quelle che sono scritturate fo fondamentale al tuo uso quelle del demauro infine in alcuni casi quando per esempio un verbo veniva cambiato con un altro verbo un nome il tempo verbale utilizzavamo il post la part of speech questo è stato a un certo punto dopo una sorta di serie di cicli di revisione perché prima è nato dall'oggetto dall'interesse nella semplificazione però vedendo che il lessico mancava ho iniziato a costruire una sorta di vocabolario e quindi la semplificazione era per quando veniva semplificato il lessico e quindi veniva cambiato un lemme letterario basso uso o termine specialistico attenzione quando c'erano invece delle rimozioni nella frase ma non tutta la frase era rimossa riduzione quando c'è una rimozione integrale della frase o della variante o della forma sinprodip sinonimo per apposto di una ripetizione poi le varianti contestuali quando per esempio cambiava qualcosa perché era solo eliminato un lemme e quindi doveva essere modificata per forza la parola successiva se non aveva senso concordanza normalizzazione adesso arriviamo e ci stiamo avvicinando alla conclusione e tutta questa annotazione che abbiamo costruito come vedete con quel linguaggio particolare però ha prodotto un xml un xml che è possibile interrogare in xquery e che è possibile trasformare attraverso i foli di stile in xslt in xml tei ovviamente un xml tei che rispetta tutti le regole fondamentali della tei ma che si prende comunque qualche piccola libertà sostanzialmente abbiamo utilizzato dei tag div con dei tag note per la prima parte quella là con il zero up cioè in cui indicavamo chi è il narratore cioè il destinatorio o chi è l'emittente della frase per indicare anche il topic e il subtopic poi attraverso una serie di list app e di app con dei type e con l'utilizzo di rdg con il testione nr80 nr12 abbiamo in qualche modo e poi utilizzando sempre un tag note per indicare invece le marche d'uso eccetera quindi sostanzialmente in questo modo siamo riusciti a trasformare un file di xml prodotto da un parser che partiva da una grammatica che partiva da quel tipo di annotazione che avete visto in precedenza abbiamo prodotto un xml tei e questo è l'obiettivo fondamentale l'obiettivo fondamentale perché questo tipo di annotazione in xml tei ma anche quelli in xml è possibile interrogarlo interrogarlo attraverso x query che ci ha permesso di ottenere una serie di risultati per rispondere alle domande iniziali se vi è stata semplificazione o no e qui abbiamo la parte principale in qualche modo in cui vediamo i risultati delle query di storie numeriche vedete è un grafico a torta in cui la grandezza sta per le marche d'uso dei lemmi che sono stati sostituiti in azzurro chiaro vedete le parole rimosse nell'ottanta in blu scuro quelle che invece sono nel dodici come vedete vi è un 80% di rimozione e un 20% di aggiunta ovviamente quando c'è rimozione e aggiunta di solito si tratta di sostituzione quindi sicuramente possiamo dire con certezza che più che il lessico è stato semplificato è stato sicuramente ridotto perché abbiamo un numero di lemmi inferiore però cos'è importante dire che se voi vedete ovviamente FO che è il 90% del lessico sono le parole che vengono maggiormente rimosse perché si tratta di una revisione completa del testo ma se vedete il rapporto che vi è tra l'azzurro chiaro e quindi tra le parole rimosse e il blu scuro che sono le parole aggiunte per fondamentale comune alto uso abbiamo circa un 15% per termini specialistici per specialistici alta disponibilità letterario o basso uso e obsoleto invece questa percentuale è sempre minore questo cosa significa che vi è in generale una riduzione ma quando Ego decide di correggere parole e di rimuovere parole ad alta disponibilità letterario o basso uso le sostituisce quasi sempre con parole a più alta disponibilità quindi parole più comuni quindi non si può parlare di semplificazione ma si può parlare di una riduzione dell'essico con degli interventi che tendono a semplificare laddove Ego decide di intervenire non succede mai che Ego rimuove una parola letteraria per aggiungere un'altra parola letteraria un sinonimo sempre di registro letterario in quei casi scegli sempre di utilizzare parole di registro più comuni vediamo per esempio un esempio qui molto velocemente di una tabella di alcuni di questi casi abbiamo apprestarvi letterario che diventa avvicinarsi comune austro che diventa vento alluminatori che diventa minatori rimemorava ricordava e così via ultime due slide xquiri ci ha permesso di ottenere anche delle statistiche su quei tag di annotazione iniziali sui topic sui subtopic e sostanzialmente il tema dell'eresia è quello che viene più semplificato cioè Ego tende a diminuire molte di quelle tessere informative che riguardano la storia dell'eresia inoltre è possibile anche in questo caso costruire e creare dei network tra i personaggi proprio perché abbiamo messo abbiamo scelto di taggare tutti gli emittenti destinatari questo network riguarda solo ed esclusivamente però le varianti non è fatto su di stessi integrali ma soltanto sulle varianti per vedere se ci sono alcuni personaggi alcuni nuclei di personaggi che vengono variati e sostanzialmente si può vedere come è abbastanza rappresentativo di tutto il testo questo tipo di mappatura se non che la figura di Ubertino è più più presente rispetto alla resta del romanzo proprio perché è una figura centrale probabilmente nella storia dell'eresia e dunque è quella che viene maggiormente semplificata arriviamo alla conclusione e dopo che cosa c'è il progetto è finito? no ci sono cicli di revisione ulteriori per esempio nuove domande di ricerca per esempio costruire vogliamo costruire un apparato filologico vero e proprio vogliamo costruire soprattutto una mappa un vocabolario o anche un'ontologia di questi tag che sono stati ad un certo punto scelti in base alle domande di ricerca ma che devono andare a costituire una vera e propria tassonomia di tutte le varianti e di temi e dei personaggi qui infine sulla sinistra vedete la mappa della biblioteca del nome della rosa una mappa che è di per sé labirintica e mi piaceva in qualche modo un po' guardare a questa mappa perché però bisogna stare attenti perché i cicli di revisione possono diventare ad un certo punto un loop quindi bisogna stare attenti che a un certo punto bisogna anche sapersi fermare ed è per questo mi piace concludere con una delle frasi conclusive del nome della rosa quando Guglielmo risponde ad Azzo e dice l'ordine che la nostra mente immagina è come una rete o una scala che costruisce per raggiungere qualcosa ma dopo si deve gettare la scala perché si scopre che seppur si arriva è la priva di senso questo significa secondo me non innamorarsi troppo dei propri strumenti dei propri standard dei propri annotazioni ma utilizzarle per riuscire poi alla fine a rispondere a quelle domande di ricerca che in realtà è ciò che davvero ci interessa grazie all'attenzione spero che vi abbia convinto concludo e adesso do la parola e do la parola a Federico che allora caro Cristian ti ringrazio moltissimo dopo avremo modo di discutere spero e posso immediatamente la parola a Paola Paola grazie a tutti grazie a tutti ok ok so good afternoon everyone and the so I'm going to present the the project work I have produced and presented at the end of the first year first level master in digital humanities in organized by the Università Ca Foscari Venezia during the academic year 2018 2019 so most more specifically the the project focuses on presenting the sorry the project provides a digital and fresh and fresh approach to the field of research that is that is the epigraphic epigraphy epigraphical studies and digital humanities applied to this field of research so the interoperable structure of this project may allow researchers and scholars archaeologists philologists and epigraphists in general to learn that among the various treasures and the various epigraphies that can be found in Venice there are also some Scandinavia just actually one artifact bearing Scandinavian runic inscriptions in Venice so even though runology is a niche field of research within the more within the wider field of research that is Germanic philology this this project focuses wants to document the 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 sort of point where Scandinavian culture and meet the the city of of Venice so oops okay so I'm starting by presenting the project itself so more particularly I will show you the input so the material I we have worked on and we have collected and worked on we meaning the team and that I will present later and how we have analyzed it and some final remarks then I will discuss how I've decided to develop it further and then I will present some future outlook so again the project was presenting at the end of the master in digital humanities in September 2019 and the purpose was to shed again more light upon the runic inscriptions in Venice which is so the statue that you can see on the left side of the slide is the only artifact in Venice where you can find where you can find carved runes I was so the target audience was is mainly scholars so epigraphists again runologists archaeologists but not only I was talking about the team so the team was composed by professor Marina Buzzoni and Dr. Federico Boschetti with assistance of also an IT expert let's say Lorenzo Soligo and myself so the final results were then collected and are available in the website which is public and in a YouTube channel okay so so the project was mainly carried out in four phases so collection of secondary sources papers not only but images photos taken by scholars photos of inscriptions so scholarly papers ranging from the end of the 19th century to the first year of 2000 written by philologists by epigraphy but also by archaeologists then we've started working on the so the papers we've worked with the command line oxygen XML editor and then on editable HTML files then the photos I've used for the 3D model were taken by me and then the final phase was assembling all the work in the website and also creating a couple of videos which are again public so as far as the scholarly papers so the secondary literature is concerned so the papers have been collected in the website but just one paper is entirely available which is one not covered by copyright anymore which is dated 1855 the one of the photo written by Rafna Danish scholar but with some information of the other papers we have created a timeline then the idea of the 3D model actually moved from morphing video that you will see in a second that Federico Boschetti and I created with two photos one taken in 1913 and one taken 100 years later and this was to show the state of preservation of descriptions which is getting worse over the years and this I think stresses the fact that there is a need to create not only some sort of reproduction of just the inscriptions but also of the statue itself so this is the video no there is a timeline running in the left corner in the bottom left corner so you will see that we have arranged the contrast and the light the brightness of the pictures in order to focus on the inscription that you can see here now on to the 3D model so the 3D model was a long work but worth it of course so again the model was created starting from the picture the pictures that I've taken which were as high quality as possible and then I have uploaded the pictures using a software called Agisoft Metashape Professional and then I ran the process of creating a point cloud which is this one and then the final mesh which is the 3D model was produced and this is how the 3D model is visualized using the software so you can see these are the pictures that the program used in order to create the 3D model this is again the list of the pictures used and then you can see you can rotate the 3D model in this case the program just created just the right side of the statue which is for your information almost 3 meters so it's a lot of data to process and this the 3D model has been produced after 12 hours okay so at the end of the project there is a public website that you can navigate users again scholars users can navigate and it collects from 3D model to timeline to the consultation of secondary literature and scholars users in general can benefit from this free access easy access and orientation through the website and through the more interactive content like the videos published in the YouTube channel so what so what's new I wanted to to work on this project and I wanted to create an interactive 3D model so after some research I found that ISTCNR produced this an open source framework which is 3D hope which is that you can use for creating interactive 3D models and what is interesting is that you can add hotspots to the 3D model so you can add textual information to the model that you want to research to make public and this is how it is visualized using 3D hope framework so after some process of uploading and adjusting the 3D model this is what you can see using the 3D hope so you can zoom in zoom out you can turn the light on or off and in this case you can also see how the marble in this case so how the material changes with respect to the rotation of the light so some future outlook what I would like to add in order to make this interactive 3D model as much useful for the epigraphical researches is that I would like to add the encoding of the inscription so you can find three spots on the lion one on the right shoulder which is the larger one and two on the left side so I wanted to encode those inscriptions how so I for my research purposes I am working with XML TEI so I have done some research within the application of digital humanities so encoding applied to the epigraphical context and I have learned that there is a subset of TI guidelines which is epidoc guidelines used by epigraphists so I have done a test with these guidelines and this is how it looks it is really a test so it's not complete and this is exactly what I'm working on for again my research purposes on yes with regard to digital philology so this is exactly the files I I I'm used to but what I thought is that since the application the use of the encoding of inscription and especially inscriptions written in a different script with respect to the Latin letter alphabet to the Latin alphabet sorry it's really it's not common so I thought that for someone who is not expert like me not an epigraphist it's easier to have more more an easier way to start to annotate to annotate inscriptions so then I thought what what would like to investigate by means of this annotation which could be which is a way of annotating description which is one way sorry so one way could be DSL so domain specific languages is that I would like to annotate graphic features of the of the runes carved on the lion so in this case this is a transliteration proposed sorry transliteration proposed recently proposed in one in one of the last papers written on descriptions of the lion and this is what I have the 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 runes so the I I've written this word the first word in runes using the Unicode runic chart and this is the description of these runes so by annotating the graphic features of the runes so not only the runes of the right carved on the right shoulder but also on the runes carved on the left side it would be interesting to see to which runic sequence the runes belong to but also it would be an essential step in order to provide in order to date to inscriptions so eventually the integration of hotspots on the 3D model and the addition also the possibility to download the encoding of the encoding of the inscriptions from the 3D model by means of a link and so the combination of these two aspects to the 3D model I think it would be it would provide a more specific and more in-depth visualization of the artifact which is the lion so we have to remember that epigraphy are complete when the researcher is also considering the object so the artifact that those epigraphies are carved on moreover this combination would allow also the investigation of the archaeological artifacts so for example archaeologists interested in the analysis of the material may also visualize the artifact especially during these times where we cannot visit for example the arsenal in Venice I think it would be useful for people who are interested in inscriptions but are also interested in archaeological artifacts another important aspect is that which is linked to this aspect that I've already explained is that both primary and secondary sources are fundamental in the reconstruction of inscriptions so Christel Dillmer who is responsible of the Oslo Runic Archive suggests that runology should not be imaginative so that's why it is important also to visualize not only descriptions but also the archaeological artifact so I think that's all this is a selection of bibliographical references and online resources and thank you so much for your attention thank you very much paola and now you can ask something to our speakers if you have questions you can write them in our chat and then I will read them so please if you have questions e naturalmente potete parlare il pubblico può parlare sia in italiano che in inglese i nostri speakers sono italian native speakers quindi non avranno problem di rispondere in italiano e anche in inglese e attendiamo qualche istante poi magari farò io qualche domanda così anche per rompere il gaccio allora io partirei appunto con una domanda per Paola no ecco è arrivata è arrivata una domanda da parte di Elisaveta e please Elisaveta can you ask directly your question to Paola you can enable your microphone yeah thank you I was just wondering if there is a possibility to see the slides because I saw you have so many interesting links in there that could help potentially with projects like that with other monuments in other countries though if there is a possibility I guess so Federico I guess there will be the possibility to share the slides maybe yeah thank you I have also the opportunity to say to everybody that all the materials so the recording of the seminars and the slides that will be gathered in the next days or weeks will be available on our website let me write the website now so currently the slides are not yet available but in few weeks they will be available okay thank you you're welcome let me write it yeah it should be this one I write the okay yeah thank you Paolo and so a question for Paolo related to the main specific languages used to annotate 3D artifacts 3D models okay so the question is do you think that a domain specific language can be used as an embedded language okay inside other applications and so on so instead of instead of writing for example unstructured remarks or annotations to use a DSL okay for structured annotations that can be parsed and which are the advantages that you see in this approach thank you Federico yes I I would start from the advantages since again I'm not an epigraphist it would be really useful for me to tackle the text of the inscriptions from less from a non-structured from a less structured way of with respect to for example TIXML yes and also the fact that I was I'm thinking about Euporia method and how you can annotate text using Euporia and how you can also convert export the annotation in a standard format like TI and that I think it's also may also be an advantage so embed this annotation that this encoding in a standard format that I've created with another with DSL and included it in the in the this in hopefully in this interactive 3D model I think it would create a more comprehensive presentation of the archaeological artifact Thank you thank you thank you very much and e adesso una domanda per Christian allora volevo chiedere a Christian o meglio non è neanche una domanda è più un'osservazione ok volevo un po' di interazione su questa osservazione sul fatto che si comincia a parlare di remodeling ok quindi dopo aver passato decenni a parlare di modellazione ok si sta finalmente introducendo il concetto di rimodellazione no questo probabilmente è molto legato anche al fatto che si sta passando da una visione come dire di comunità ad una visione intercomunitaria per così dire cioè non abbiamo più soltanto una singola comunità interessata all'annotazione come poteva essere la comunità che ruotava intorno alla text and code initiative ma ci sono molte comunità che vedono lo stesso oggetto di studio da prospettive diverse quindi appunto l'idea che ci siano prospettive diverse porta anche ad avere modelli diversi rispetto a domande di ricerca diverse rispetto a tutto quel interessantissimo costruzione che si è mostrato all'inizio quindi di domande approcci progetti eccetera ecco volevo una maggiore sì sì ma innanzitutto mi convince molto questa cosa Piper come dicevo all'inizio proprio interpreta il circolo ermeneutico non soltanto come parte tutto quindi close e distant ma proprio in ottica di model e remodel quindi di modellazione e di rimodellazione questo perché probabilmente perché ti do una mia visione una mia prospettiva una prospettiva probabilmente storica nel momento in cui si va a formare una comunità la prima cosa la cosa più importante è trovare un modello è digitalizzare è cercare di rispondere alla domanda preponderante al primo bisogno nel momento in cui il testo ormai già è stato codificato c'è un'enorme quantità di testi e quindi non abbiamo più la questione del dobbiamo trovare dei metodi perché già ci sono ma dobbiamo ripensare il testo è un po' quello che si è sempre fatto alla fine anche nella critica letteraria si partiva da una prospettiva la prospettiva per esempio storicistica e poi si è arrivata invece allo strutturalismo eccetera eccetera che ha ripensato il testo ha rimodellato il testo è proprio per questo secondo me che la tradizione ermeneutica che è comunque una delle tradizioni filosofiche più importanti del novecento può dare tanto alle digital humanities è proprio questo approccio alla rimodellazione a partire quello che dicevamo anche la settimana scorsa con gli interventi di Dalia Spampinato Pierpaolo Sighera e Salvatore è proprio la questione di ritornare alla domanda cioè noi abbiamo un testo abbiamo una codifica noi facciamo codifica ma qual è la rappresentazione del testo perché se ho fatto la codifica la dovuta fare una volta per tutta no la codifica deve rispondere a determinate domande a determinate la codifica è un processo infinito esatto esatto è quello che dicevo Schleyer Maccheriano esatto però attenzione è quello che voglio dire anche attenzione bisogna anche sapersi dare delle prospettive perché se non diventa poi quel processo infinito che continuiamo a codificare a codificare e non riusciamo mai ad avere una risposta nei nostri dati non va neanche bene quindi ci vuole nelle parole di Rastier potremmo dire che il limite all'infinito è l'indefinito cioè nel senso che in potenza in potenza un processo infinito ma poi in atto ok è limitato appunto da condizioni storiche da condizioni economiche ok di vario genere ok per cui poi ciò che ciò a cui noi ci limitiamo no è un numero appunto che può essere indefinito perché non lo sappiamo quant'è perché può crescere ok possiamo non averli raccolti tutti però è un numero limitato no una cosa indefinita non sappiamo quanto è ma ha un suo limite per restare in ambito Umberto Ego ok no c'è un bellissimo saggio di Umberto Ego si chiama interpretazione e sovrainterpretazione no per cui avere avere quel quell'idea no che noi potremmo dire tutto di tutto quindi noi potremmo avere una di una mela potremmo dire che è un'astronave no ok o di un bacco da seta potremmo dire che è un telefono ok però in realtà ciò che noi diciamo è effettivamente ciò che una comunità è pronta ad accogliere e considerare sensato da un certo punto di vista no e in parte anche ciò che intrinsecamente l'oggetto ci dice dice di se stesso cioè è molto bella l'idea che anche l'oggetto stesso entri nel dialogo di ciò che si può dire su di lui no cioè è vero che noi possiamo dire tutto di qualunque cosa ma a un certo punto anche l'oggetto dice qualcosina su se stesso a tal proposito Ego fa un bellissimo sempre esempio che dice io il cacciavite lo posso usare per grattare l'orecchio però non lo faccio ci sarà un motivo bravo esatto ci riporta chiaramente a Wittgenstein tutto il discorso di ciò che sia appropriato e non appropriato per fare certe cose ma esattamente questo è proprio questo due cose che sono su cui sono perfettamente d'accordo l'oggetto ed è quello che diceva anche guardare le cose stesse partendo da Heidegger l'oggetto ci dice comunque qualcosa di sé sempre per questo dobbiamo guardarlo osservarlo sempre con grande attenzione e fare partire le nostre domande dall'oggetto e la seconda è comunque quello che dici benissimo è la comunità ermeneutica ora non voglio riprendere Fish ma c'è un testo in questa classe che è un testo comunque fondamentale dell'ermeneutica anche l'ermeneutica ma è la comunità ermeneutica che poi limita le domande su quell'oggetto ed è quello che anche tu dicevi anche il modello la modellazione la rimodellazione in qualche modo ha a che fare con le comunità ermeneutiche che incontrano il testo i testi la codifica le codifiche esatto allora adesso lascerei la parola a Paolo e poi c'è una domanda anche da parte di Massimiliano Basilone prego allora Paolo per conto mi è molto breve mi è interessato moltissimo la prima parte che appunto vedeva come il circo ermeneutico potesse essere declinato in digitale ho qui davanti la slide che dice quella con i rettangoli che sembrano dei lingotti di cioccolato la mia domanda è perché perché è distinto tra precomprensione TEI e applicazione DSL è interessante questa distinzione perché io avevo visto DSL e TEI come linguaggi non isomofili ma convertibili l'uno nell'altro e quindi perché invece collochiamo DSL a un livello diverso probabilmente c'è una cosa molto interessante dietro questo slide da sola richiederebbe un intero esatto allora è importante io quando ho fatto quella slide mi sono a lungo interrogato su questa cosa nel senso che nel momento in cui ho messo precomprensione e applicazione ovviamente ogni qualvolta noi creiamo una codifica ad hoc su qualunque nostro progetto noi stiamo applicando quindi si può fare assolutamente un'applicazione TEI una stessa codifica che io faccio in testo è un'applicazione della precomprensione cioè dello standard alla mia situazione concreta però lì volevo più sottolineare il fatto del DSL perché comunque la TEI ha una struttura essendo uno standard comunque con delle guide di apertura precomprensiva si potrebbe dire in cui comunque è importante per il momento in cui mi approccio mi faccio dettare quasi come devo chiamare la variante o l'MoRDG fine cioè non è posso dire del hub eventualmente se voglio cambiare voglio privilegiare la rimozione o l'aggiunta però quelli sono i tag la cosa comunque straordinaria dei DSL è che invece parto da una precomprensione ma che è comunque non una tabula rasa perché non esiste mai la tabula rasa ma che comunque ha a che fare con tutto il mio le mie conoscenze esistenziali anche quelle della TEI e io mi trovo a dover interrogare il testo in maniera privilegiata e quindi ha un valore applicativo diciamo più forte che comunque può essere anche un suo limite perché può lasciare lo studioso di fronte alla quantità delle possibilità e al non poi avere un linguaggio univoco poi ovviamente il DSL grazie all'isofonorfismo alle grammatiche questa cosa la limita però io potenzialmente nella codifica che ho fatto delle varianti del nome della rosa avrei potuto chiamare l'importante che l'avevo utilizzato l'hashtag il cancelletto per indicare la rimozione linguistica o l'aggiunta la potevo chiamare semplificazione appiattimento altri 50 nomi sinonimi quello se non c'è poi alla fine un'ontologia o comunque un lessico comune un'edizione di tag diventa poi impossibile ed è per questo che la TEI poi ricondurla alla TEI può limitare in maniera positiva e può dare un senso a queste nostre cose però e concludo era proprio questo il fatto che sicuramente ci può essere un'applicazione in TEI con la codifica però mi piaceva valorizzare il fatto che la TEI essendo già uno standard ha un valore di precomprensione diverso rispetto al DSL che è un valore di applicazione maggiore scusa Cristian volevo aggiungere una cosa su questo aspetto ok che appunto proprio in quanto allora naturalmente noi quando parliamo della TEI parliamo per così dire della TEI di massa fra virgolette nel senso che sappiamo tutti benissimo che la TEI ha talmente tanti meccanismi per estendere se stessa ok che noi potremmo usare la TEI in un modo come dire del tutto anomalo ecco del tutto anomalo rispetto allo standard stesso no? ok quindi questo è un pay attention che va comunque detto no sì ovviamente la TEI ha le grandi potenzialità di autoestensione però nel momento in cui noi parliamo di TEI come comunità e come parliamo del capitolo per esempio la filologia di RDG l'EM poi su questo ci possiamo anche interrogare su questa cosa sicuramente però appunto quando tu parli di standard è esattamente questo cioè lo standard che noi riceviamo lo standard nel momento in cui noi andiamo ad adottarlo no? è di fatto una precomprensione è una precomprensione perché lo standard è nato da no? da come si può dire lo standard è nato per descrivere qualcosa che è diverso dal nostro oggetto specifico di studio quindi di fatto ha un elemento forte di precomprensione rispetto a quell'oggetto specifico che lo standard non aveva ancora trattato perché se io andassi a trattare qualcosa che era già stato trattato precedentemente non avrei nulla di originale da aggiungere no? ecco allora che il DSL si è ci permette di creare un isomorfismo con poi lo standard ma ci permette anche di gestire un residuo ok? cioè qualcosa che non è ancora nello standard e che eventualmente potrebbe entrare o in una estensione ok? permessa e concessa dallo standard o addirittura appunto ad una estensione dello standard stesso no? quindi ad una proposta nuova allo standard vorrei dire una cosa solo per concludere non è solo questo a mio modo di vedere cioè sicuramente sì però nel momento in cui io utilizzo lo standard è una mia esperienza personal utilizzo lo standard per descrivere qualcosa appoggiandomi su determinati tag mi faccio anche meno domande in alcune occasioni mi servo per descrivere un determinato aspetto quando mi ritrovo invece di fronte tra virgolette alla pagina nuda a dover descrivere in maniera più complessa anche rispetto alle mie domande alla mia tradizione filologica eccetera mi faccio le domande diverse e poi magari potrei tradurre tipo con vari type o vari altri attributi quella cosa ma che se non avessi utilizzato quel tipo di annotazione totalmente diversa molto più libera diciamo non mi sarebbe dovuto in mente la descrivere in quel modo quindi c'è anche proprio una questione esatta certo certo no ma io sono d'accordissimo su questo aspetto cognitivo ok su degli schemi ok logici e che interagiscono molto anche con per così dire la psicologia della persona che fa la notazione no molto spesso parliamo di questo stress cognitivo nel doversi adeguare a delle a degli schemi di annotazione che magari sono lontani dal tuo obiettivo di ricerca ecco allora adesso lascerei la parola a Massimiliano Basilone sì buonasera sì io sono uno studente della corso di laurea di magistrale di letteratura straniera a Pavia quindi a Pavia sì a Pavia ho alcun ho poca esperienza per quanto riguarda l'annotazione però sono degli ambiti che mi interessano e per curiosità volevo anche chiedere se visto anche le citazioni a Schleyermacher qual è qual è la formazione che hai ricevuto se vieni da un background più filosofico o letterario per poi essere arrivato a fare questo è una curiosità mia le rispondo con piacere è una bella domanda perché ho una formazione molto ibrida cioè ho fatto un tecnico informatico industriale quindi ho un background di programmazione iniziale ho cambiato tutto mi sono laureato in lettere moderne con curriculum comparatistico e poi in filologia moderna filologia moderna in cui ho privilegiato alcune materie di tipo filosofico e mi sono laureato in ermeneutica della modernità letteraria quindi in quel contesto ho studiato Heidegger Gadamer e mi sono occupato di Umberto Eco e poi ho fatto il master a Venezia dove ho ripreso la parte digitale con le digital humanities eccetera e adesso mi sto dottorando in scienze dell'interpretazione che è un dottorato in qualcosa multidisciplinare in cui ci sono studiosi e studenti di filosofia di filologia di letteratura italiana e quindi io cerco a mio modo di vedere è fondamentale sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista letterario che dal punto di vista filosofico io sono contro le barriere sono per i ponti e secondo me si può arrivare a una consapevolezza maggiore del proprio oggetto di studio proprio facendo dialogare diverse discipline e diverse tradizioni storie che danno il meglio di sé in un dialogo continuo questa è stata la mia esperienza proprio anche di vita e quindi spero che possa essere grazie assolutamente anche perché mi piacerebbe cioè vorrei aprire diciamo il espandere diciamo verso le digital humanities comunque in futuro mi piacerebbe poter avere che fare di più con questo campo ecco noi siamo molto grazie e appunto adesso stiamo organizzando anche dei seminari in realtà di webinar perché saranno completamente a distanza per laureandi e dottorandi che siano che si sentono fortemente motivati a usare nel concreto Euporia nei loro progetti di ricerca quindi in progetti di ricerca specifici ecco li organizziamo nella nella seconda metà di aprile cioè a partire dal 15 di aprile e saranno sei incontri quindi insomma se qualcuno è interessato ce lo faccio sapere benissimo poi volevo fare una domanda a Paola allora volevo chiedere a Paola l'idea di vedere ad esempio ecco la domanda è questa abbiamo visto no una rappresentazione bidimensionale del dello scorrere del tempo no su una epigrafe che si degrada no ok allora volevo chiedere in che misura la domanda di ricerca quindi ad esempio la domanda di ricerca può essere quanto un'epigrafe si è degradata nel tempo quanto di ciò che potevo leggere non riesco più a leggere quanto un'altra domanda può essere quanto fonti secondarie come possono essere bozzetti su una specifica epigrafe eccetera ok mi permettono di quindi quanto la domanda di ricerca ok secondo te può spingere i gli sviluppatori di strumenti per il 3D ok a creare degli appunto degli strumenti più ricchi più sofisticati più anche adeguati appunto a domande di questo genere quindi ad esempio per esempio portare l'aspetto diacronico nella modellazione tridimensionale portare non soltanto l'aspetto diacronico nella modellazione tridimensionale magari potrebbe bastare un film eccetera ma portare l'aspetto diacronico nella modellazione tridimensionale proprio per rispondere a domande specifiche di ricerca ecco volevo chiedere anche nella tua esperienza e nelle probabili interazioni che hai avuto con gli sviluppatori con alcuni sviluppatori del degli strumenti tridimensionali come ritieni che il ricercatore nel campo delle digital humanities possa chiedere di più ecco a chi produce modelli tridimensionali grazie fedelico bella domanda allora sottolineo questa cosa io di modello modellazione 3D la modellazione 3G mi ha sempre affascinato come ecco l'ambito epigrafico pure però appunto nell'ambito della modellazione 3D sono autodidatta quindi mi sono informata per conto per conto mio allora è un po' il discorso non lo so mi vengono in mente alcune cose che diceva appunto Cristian prima cioè e poi alcune cose che avevo appunto già detto nella presentazione che oltre al discorso del testo riportato nell'iscrizione quello che secondo me è importante ed è da tenere in considerazione appunto nel campo dell'epigrafia digitale e da quello che appunto sto leggendo sto studiando e sto e ho anche visto portando avanti un po' alla volta questo progetto è che è molto importante inglobare tutto cioè l'iscrizione cioè il documento quindi come il manoscritto è il nostro documento il mio manoscritto su quale sto lavorando è il mio documento il leone è il documento il leone porta una storia il leone porta dei segni di deterioramento di vita vissuta e anche di poca poca cura con la conservazione di un di un bene raro per la città di Venezia ma in generale per 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 l'Italia perché di iscrizioni eruniche sono presenti ci sono altre iscrizioni eruniche in Italia a Venezia appunto è l'unica quindi potrebbe essere un è sicuramente un motivo di vanto quindi la modellazione 3D applicata all'ambico epigrafico permette di avere proprio una visione di insieme cioè quello che appunto come dicevi tu ma inizia una runa che inizia a non essere più leggibile lo comprendi se vedi appunto il documento nella sua il documento il leone in questo caso comunque il reperto archeologico nella sua interezza ecco quindi la sua interezza quadridimensionale a questo punto quadri di dimensioni la dimensioni spaziali è una dimensione temporale che ci permette proprio di vedere l'evoluzione nel tempo di un degrado del del supporto in questo caso del supporto e eventualmente del testo sicuramente non ho fatto un calcolo di quante della non ho fatto un calcolo statistico della percentuale di di rune che sono andate perse nell'arco appunto di 100 anni che sono le foto quindi l'arco temporale delimitato da quelle due foto che avevamo utilizzato per fare il videomorphing non ho fatto un'analisi non ho ricavato un'analisi un numero un'analisi statistica però appunto si nota un deterioramento è palese il deterioramento del insomma un reperto archeologico molto che racconta che ha una storia molto diciamo diversa che è arrivata a Venezia ecco certo ecco è da dire appunto che i colleghi del CNR isti stanno sviluppando degli strumenti che sono veramente eccellenti e anche da dire non sono parole eccessive no no è veramente non solo eccellente ma anche eccezionale ok nel senso che veramente si stanno occupando di modellazione 3D che è orientata alla ricerca cioè non è semplicemente bene facciamo il modellino 3D e basta ok ma è proprio facciamo il modello 3D perché sia d'aiuto alla ricerca per cui no poter combinare esattamente quello che dicevi tu cioè il fatto che il modello tridimensionale è documento oggetto di o meglio rappresentazione rappresentazione dell'oggetto di ricerca che si permette di studiare meglio l'oggetto di ricerca in sé esatto avere una visione d'insieme esatto avere una visione d'insieme e la cosa che appunto anche a me ha colpito quando ho approcciato all'inizio questo questo 3D Hope quando ho dato appunto un'occhiata nella nella gallery del del sito di questo gruppo di ricerca è vedere come appunto come dicevi tu non sono modelli 3D interattivi così giusto per il gusto di farli girare attorno ad un'asse e vedere come sono state processate le immagini ma la cosa bella appunto che si possono appunto il vantaggio che si possono arricchire di informazioni utilissime per chi appunto fa ricerca e soprattutto vedere come questo 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 software è già è già diffuso in realtà oltre ai confini nazionali è già è già raggiunto ecco altri posti altri gruppi di ricerca ed è molto interessante e spero anche ecco nell'ambito dell'epigrafia digitale spero che questo tipo di visualizzazione delle delle iscrizioni possa prendere effettivamente piedi che si diffonda certo ecco vedo fra il pubblico anche il professor Rosselli del Turco che appunto ha lavorato con modelli tridimensionali non so Roberto se vuoi aggiungere qualcosa scusatemi ma io per motivi familiari mi sono potuti unire soltanto adesso sostanzialmente quindi mi manca completamente la possibilità di reperire il filo del discorso comunque sì ho sentito che menzionavate 3D Hop anche noi stiamo lavorando con 3D Hop sempre per le lune peraltro perché è il progetto sulla croce di Rathwell sulla croce di Bucassol e quindi è un progetto che dovrebbe vedere queste croce adesso pubblicate a breve usando 3D Hop e poi abbiamo già una sperimentazione avviata per integrare 3D Hop all'interno di EWT quindi in futuro dovrebbe essere possibile anche questo passo grazie benissimo ci sono altre domande? Luigi hai qualche domanda relativa al circolo ermeneutico? sul circolo ermeneutico però avrei una domanda per Cristian sullo schema che ha usato per annotare le varianti anche io mi sono ritrovato a usarlo applicare lo stesso schema cioè quello di addizione sostituzione trasposizione cancellazione e ti volevo chiedere se per caso hai trovato dei casi che non sono facilmente classificabili cioè se ci sono magari delle istanze in cui non è chiaro se si tratta di un caso di sostituzione o di cancellazione se hai modellato questo aspetto cioè questa incertezza tua e se i risultati che hai ottenuto appunto si basano sulla montare totale delle varianti virtuali che hai raccolto oppure se non è stata necessaria una regolarizzazione del tuo database cioè se non hai escluso magari i casi che possono costituire o rumore oppure essere irrilevanti per la domanda di ricerca grazie per la domanda ed effettivamente chi ha affrontato questa problematica sa bene che ci sono un po' di problemi in effetti intanto la trasposizione è sempre una brutta bestia perché proprio dar rumore nel testo secondo me è anche poco utile spesso e volentieri codificarla perché se non c'è una domanda di ricerca forte per cui voglio vedere perché traspone determinate frasi ma deve essere un fenomeno molto ricorsivo se non non è qualcosa che dal punto di vista linguistico lessicale spesso e volentieri ha una sua rilevanza perché è determinato molto spesso da magari una variazione precedente una cancellazione e allora si sposta la parola per questo motivo ma non raramente almeno nella mia esperienza un suo significato importante quindi infatti lì dal punto di vista della trasposizione non l'ho trattata in maniera molto più specifica ma sono le varianti non in realtà le statistiche sulle varianti non prevedono il controllo sulle trasposizioni anche perché non ha senso perché comunque se una parola viene trasportata è sempre la stessa parola quindi le marche d'uso rimane uguali fondamentale fondamentale o quella che è perché non vi è per quanto riguarda il discorso invece della rimodellazione in effetti in alcuni casi c'è un problema sulla sostituzione se su cancellazione è aggiunta tendenzialmente non c'è problema sulla sostituzione sì perché in alcuni casi dire dal punto di vista attualmente teorico e filologico dire che questa frase è stata sostituita con questa parola non sempre è così vero perché magari è che la frase è stata completamente rimossa e poi mancava magari una congiunzione e allora viene aggiunta la congiunzione non si tratta proprio di una sostituzione di un intero però in questo caso per questa fase nella prima fase del ciclo nei primi cicli ho preferito invece basarmi su con le ITX quindi sul modo di evidenziare le varianti e sempre quando vi trova una cancellazione un'aggiunta la individuo sempre come sostituzione quindi poi io l'ho taggata come sostituzione solo ho fatto soltanto qualche raro intervento perché poi ho fatto comunque dei cicli manuali di controllo e di controllo perché erano proprio dei casi in cui con le ITX per evidenti motivi dell'algoritmo di collazione andava a avere degli errori per cui siccome c'erano delle varianti molto ampie spesso l'algoritmo tendeva a alcuni lemmi a sostenere che fossero stati in qualche modo sostituiti quando non ne la vedo perché magari non lo so c'erano 15 lemmi poi c'erano tre lemmi uguali e poi altri tre o quattro lemmi per qualche motivo l'algoritmo tendeva in alcuni vari casi a cancellare tutto e a sostituire tutto con un'altra frase in quel caso andò a intervenire a normalizzare questa questione però sicuramente nell'ottica di oltre che nella costruzione eventualmente di un dizionario di un'ontologia vi è anche un controllo ancora maggiore anche se già un primo livello c'è stato di questi problemi e anche una modellazione perché alla fine mi sono molto occupato in maniera pragmatica di farlo caso per caso in effetti invece ci vorrebbe un modello per riuscire a risolvere questi casi e non affidarsi magari alla sensibilità del singolo che in alcuni casi è utile ma non sempre magari è perfettamente corretto senza un modello grazie mille certo sì infatti va a ricordare l'hai già detto ma insomma va ricordato il fatto che le varianti ok le abbiamo individuate appunto tramite le API di CollateX quindi noi abbiamo applicato le API di CollateX per individuare automaticamente le varianti le quali sono state messe poi a disposizione per la costruzione del testo di Euporia quindi poi in Euporia quelle parti in rosso e in blu non erano state marcate a mano ma erano appunto il risultato della marcatura automatica e invece la parte di annotazione poteva essere veniva inizialmente messa a disposizione in automatico ma poi poteva essere corretta manualmente e quindi interpretata in un modo anche diversa quanto riguarda la trasposizione sì la trasposizione è veramente molto complessa perché è chiaro che noi possiamo avere una trasposizione in fondo anche facilmente identificabile quando abbiamo la trasposizione dell'identico ma è molto difficile che noi abbiamo la trasposizione dell'identico perché a volte noi abbiamo trasposizione con sostituzione trasposizione con ampliamento trasposizione con cancellazione ok quindi trasposizione con riduzione questi già sono tre casi in cui la trasposizione porta delle modifiche non è il semplice tolgo da una parte e metto dall'altra questo è ancora più complesso quando la trasposizione anziché avvenire sul piano dell'espressione avviene sul piano del contenuto ok perché diventa ancora più arbitrario andare a individuare se abbiamo semplicemente una cancellazione da una parte e una aggiunta dall'altra di cose diverse o se invece tenerle unite appunto perché è stato tolto qualcosa che altrove ha lo stesso tipo di contenuto quindi la trasposizione in sé reca spesso la necessità di individuarla perché la si vuole individuare perché si ha la necessità di individuarla perché fa parte della nostra stessa ipotesi di ricerca quindi esatto in un caso come il tuo in cui queste trasposizioni non erano così tanto significative perché appunto trasponevi magari una parola che aveva la medesima marca d'uso non era così tanto significativo è chiaro che in altri progetti per ovvie ragioni la trasposizione invece può diventare fondamentale ma anche semplicemente se noi facessimo uno studio ad esempio sulla pragmatica del testo andassimo a vedere come un autore modifica la pragmatica del testo andando a mettere enfasi o meno su certe espressioni quindi è sempre molto molto legato alla domanda di ricerca benissimo altre domande Paolo Monella non è una domanda ma è quello cioè volevo ribadire quello che ha appena detto Federico avevo pensato già prima di dirlo l'attimo di sconforto è legato a questo cioè le trasposizioni non sono mai la stessa cosa una cosa se la sposti non è mai la stessa cosa il cane mangia morde Paolo Paolo morde il cane ma qui parliamo della frase simile della frase minima ma io avevo un testo storico un cronico in cui lo stesso fatto lo stesso fatto veniva poi spostato in due monoscritti diversi in punti diversi acquisiva un significato completamente diverso i mori entrano nella città i cristiani riconquistano se lei inverti vince qualcun altro cioè il punto e lo sconforto è questo cioè noi abbiamo nel progetto di Cristi naturalmente lui si occupa delle marche lessicali ma anche su questo vorrei citare Nunzio La Fauci un linguista palermitano che diceva che la linguistica è una filologia che riflette quindi dando a noi filologi anche abbastanza giustamente quelli che non riflettono non è vero non è vero però diceva giustamente la linguistica è una filologia che riflette non c'è una distinzione tra linguistica e filologia ovviamente reale come giustamente diceva Federico citare la linguistica testuale una cosa che diceva La Fauci per provocare è che le parole non esistono cioè le parole isolate non esistono ci ho detto il momento di sconforto è legato a questo noi invece purtroppo in Digital Humanities principalmente abbiamo modelli basati naturalmente su atomi questi atomi troppo spesso sono le parole allora cosa succede che noi siamo disarmati di modelli che gestiscano non gli atomi ma le relazioni il fatto che effettivamente la trasposizione è una bruttissima bestia con quell'IDX che ho usato anch'io è perché noi non collazioniamo il fatto che questa frase è in relazione con quest'altra frase ma praticamente noi codifichiamo una sequenza di caratteri di stringhe di parole di lemme eccetera siamo disarmati e invece quel tipo di modelli che avrebbero a che fare con reti sono di una complessità tale che noi non possiamo vicinarci a essi né con DSL né con TEC e quindi questo è il mio sconforto vedo che lo condividete se qualcuno ha una parola buona sinceramente allora comincio io perché dopo così mi taccio che così posso lasciare spazio agli altri allora condivido al 100% quello che dici lo condivido in toto ok direi che lo condivido condivido al mille per mille così possiamo anche introdurre un po' di polemica fra senso e denotazione perché denotiamo la stessa cosa ma abbiamo due sensi diversi ok perché condividere al 100% denota la stessa cosa di condividere al mille per mille ma in realtà ha due sensi diversi allora detto questo detto questo è esattamente quello che dici tu noi abbiamo speso moltissimi anni nel visit agli humanities a lavorare intorno al piano dell'espressione e non abbiamo ancora dei modelli solidi per lavorare sul piano del contenuto anche perché per poter lavorare sul piano del contenuto noi abbiamo bisogno di lavorare su altri piani dell'espressione che si mappano su un contenuto perennemente sfuggente perché il contenuto non può essere catturato se non attraverso altre espressioni ecco allora che nel momento in cui noi andiamo a interpretare qualcosa e vorremmo in qualche modo aggrapparci prendere per i capelli prendere per i capelli il contenuto di ciò che a noi dice l'espressione ok in realtà stiamo aggiungendo una nuova espressione che bisogna a sua volta di essere interpretata ecco quindi questa catena di espressioni che non raggiungeranno mai per fortuna il contenuto perché nel momento in cui noi ritenessimo di aver raggiunto il contenuto probabilmente staremmo solo imbrogliando bleffando ok perché perché di fatto appunto il contenuto lo vediamo solo attraverso le sue espressioni e ogni volta che noi diciamo no non sono d'accordo che va interpretato in quel modo che quella espressione va interpretata in quel modo ok quindi non sono d'accordo con il contenuto che che christian ci vede dentro in realtà per dirlo devo mettere un'altra espressione ok quindi avere dei modelli che riescano a trattare il contenuto attraverso catene di espressioni ok è esattamente dal mio punto di vista quello che dovrebbe fare la digital hermeneutics ok quindi dove la letteratura secondaria per forza giusto appunto la letteratura secondaria diventa fondamentale perché noi abbiamo avuto la corpus linguistics ok che ci ha dato dei modelli naif ci ha dato dei modelli troppo deboli per affrontare il testo perché noi possiamo lavorare sul corpus ok solo se all'interno di questo corpus ci stanno anche tutte le sue interpretazioni ma queste interpretazioni non possono che essere date appunto dalla letteratura secondaria che è costituita da altre espressioni ecco allora che se io voglio capire Omero con Omero ok ho bisogno di tutti gli studi omerici a mia disposizione ecco lo metto naturalmente in forma del tutto polemica in forma del tutto imprecisa come dire limitata limitante eccetera proprio per scatenare violentemente la discussione faccio una piccola parentesi io perché sono pienamente d'accordo proprio pienamente d'accordo con Paolo e con Federico perché il contenuto innanzitutto ha a che fare con l'applicazione quello che diciamo quindi non può darsi un contenuto senza una situazione ermeneutica la situazione ermeneutica cambia per la persona la storia il periodo e tutto è l'unico modo o uno dei modi secondo me non so se è l'unico però il modo privilegiato che io vedo per rispondere a questo problema è quello della estetica della ricezione in qualche modo cioè degli orizzonti d'attesa e quindi della possibilità di descrivere un evento un comunicativo un evento una significazione eccetera anche con gli effetti che ha avuto cioè le interpretazioni che sono state date e quindi non più il semplice lemma che vuol dire quello ma il lemma in relazione anche alla letteratura secondaria ai suoi significati che hanno avuto nella storia e quindi io immagino un orizzonte in cui le edizioni le edizioni digitali possano integrare anche le interpretazioni tipo con qualcosa che possano integrare comunque le interpretazioni della letteratura secondaria come una cosa che non si può fare con il libro perché diventerebbe un libro impossibile ci sono le edizioni annotate ma con un commento ma invece avere porzioni di testo con più commenti anche in conflitto tra loro può diventare un eccezionale modo per mettere in dialogo la frase il significato in relazione ai significati che sono dati nella storia nei suoi interpreti e che può in qualche modo anche rispondere a quella visione naif del significato come qualcosa di dato una volta per tutte quando non è assolutamente così a mio modo di vedere grazie Cristian qualcun altro vuole intervenire su questo argomento oppure Paolo vuole replicare no no semplicemente scritto scusate che avete ragionissimo avete messo in termini ancora più generali io però ponevo un altro problema più limitato ma non meno disperante cioè noi non abbiamo non maneggiamo modelli che gestiscano relazioni spesso che sarebbero modelli che avrebbero a fare con reti cioè oggetti sono questi certo allora Paolo vorrei rivolgere io una domanda a te ok per sentire cosa ne pensi ok cioè volevo chiederti tu ritieni che l'approccio ok ontologico che quindi le ontologie di fatto gestiscono relazioni ecco sia insufficiente quindi è proprio una vera domanda non è una domanda retorica ti chiedo ritieni che sia insufficiente e se è insufficiente qual è perlomeno perché tu dici non saprei come fare però qual è perlomeno la tua intuizione per superare una eventuale insufficienza la risposta è dentro di me però è sbagliata qual è la mia intuizione non è il modo migliore per dirlo allora io no sono dell'idea che le ontologie siano più che sufficienti che i modelli ci siano anche parlo di rete quando parlo di una rete parlo di un modello molto generale voglio dire la TEI XML è un albero una stringa è una sequenza eccetera eccetera queste non sono reti però i modelli per gestire reti ci sono dai database relazionali banalmente attenzione perché le ontologie sono a livello dei tipi invece un database a livello dei token si può creare un database quello che dicevo a livello molto più basso è che noi questi modelli non li maneggiamo faccio esempio della varianza testuale per cui ci incartiamo tanto con le ITX eccetera e Desmond Schmidt ha inventato e lui e altri hanno inventato dei modelli marcoviani legati un po' al modello del fiume che si biforca e poi si riunisce sono modelli più complessi ma siccome non li posso gestire editando un virgolette semplice documento TEI io non li so usare nessuno li usa eccetera quindi cosa voglio dire i modelli a mio parere non mancano né a livello del tipo ontologia né a livello del token cioè della singola istanza di quel tipo trovata in un documento o in un altro il problema è che c'è un layer intermedio di applicazioni cioè di software da utilizzare tra me e quello che interviene abbiamo parlato altre volte anche con nelle fusi cioè interviene tra me e il database un layer che c'è anche tra me e il documento di testo perché il documento di testo non lo modifico mica con la matita lo modifico sempre con un editor però me ne accordo meno siamo nel Cominici Daniele nel Paradigma Libro e quindi siccome la butto proprio a terra molto semplice siccome è più facile editare un documento di testo per me Paolo allora io preferisco quello piuttosto che un database perché qualcosa è meno intuitivo e gestire le reti è qualcosa di più complesso lasciamo a perdere gli algoritmi che poi devono andare a gestire i rapporti eppure quando io dico il cane morde Paolo Paolo morde il cane è una rete con una serie di nodi di rapporti quindi quella trasposizione è proprio un cambiamento dei rapporti anche la posizione cambia i rapporti appunto quindi quello che voglio dire è molto banale in realtà è più difficile avere a che fare con modelli che siano delle reti rispetto a modelli che siano delle sequenze sia dal punto di vista dei modelli sia dal punto di vista degli algoritmi però veramente mi piacerebbe sentire cosa ottengono da dire sì allora io appunto mi piacerebbe se intervenissero naturalmente ovviamente a loro discrezione se lo ritengono opportuno persone che sono fortemente preparate su questi argomenti per cui lascerei la parola ad Angelo Mario del Graosso Daniele Fusi a Daniele Fusi a Dario Spampinato chi vuole intervenire anche per dire Federico quello che hai detto è sbagliato quindi Angelo ciao 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 Fede io sono arrivato tardissimo perché ho avuto il peggio del corso quindi ho seguito molto poco troppo poco tutto tutto questo seminario e quindi poi non riesco ora ad agganciarmi alla discussione parlavo proprio su queste ultime domande su queste sul fatto appunto che le ontologie ok possano essere adeguate o meno ok ad esempio appunto dico una cosa che è una mia impressione ok ad esempio sono abbastanza d'accordo con Paolo sul fatto che la modellazione tramite ontologie ok sia molto più efficiente quando la si applica all'asse paradigmatico e quindi quando si va sui types ok di quanto lo sia sull'asse sintagmatico e quindi di quanto di quando si va sul testo di quando si va sui token specifici ok per esempio ecco questa per esempio è una mia impressione però non essendo né uno specialista né particolarmente competente magari quello che dico si limita proprio a livello di intuizione ecco invece magari tu e voi anche Daniele e anche Daria che avete più consapevolezza di questo ci potete dire la vostra con maggiore cannazione di causa sì nel senso io ho lavorato in realtà abbastanza poco sulla rappresentazione della conoscenza anche se mi pare di capire che l'argomento trattato sia legato più a questo tipo di rappresentazione e vabbè io ovviamente lascerei la parola dare a Daniele forse hanno avuto più come dire esperienza in merito però posso cogliere il discorso che facevi prima cioè un discorso paradigmatico un discorso sintagmatico in qualche modo è riferibile anche a come rappresentiamo il testo ora cioè nel senso il testo ora è rappresentato con una tecnologia che è una tecnologia sintattica che è l'XML non è una tecnologia semantica quindi già lì al netto del modello dati che è un modello ad albero e non è un modello reticolare a grafo che è il modello dell'XML ma comunque sia la tecnologia anche dello standard è rappresentato a livello sintattico non è rappresentato a livello semantico quindi io non ho certezza semantica della codifica al netto poi del discorso del modello dei dati perché il modello dei dati può essere sì reticolare ma il modello dei dati reticolari se non è comunque rappresentato a livello semantico ho lo stesso problema alla fine quindi le otologie sono una tecnologia che rappresentano il dato da un altro da un altro punto di vista cioè dal livello dal punto di vista semantico io non diciamo la metterei anche con questa prospettiva non solo di data model quindi albero versus grafo ma anche dal punto di vista della rappresentazione che io posso fare della sintassi o della semantica del dato stesso ecco quindi questi aspetti sicuramente possono essere superati adottando appunto le tecnologie ontologiche ma presumo che insomma Dari e Daniele abbiano lavorato molto anche perché voglio dire adottando l'RBF si adotto una tecnologia grafo ma se non ho descritto la semantica delle triple non ho realizzato tutta quella parte semantica effettivamente che viene codificata con OVL quindi con l'ontologia infatti è un po' più articolato il discorso infatti io mi piacerebbe però è tardissimo sarebbe bello farlo in un'altra discussione infatti soprattutto io volevo quello che stavo dicendo proprio alla fine Angela il fatto dell'RDF cioè il grafo è rappresentato appunto con RDF però lì manca la semantica che va fatta con l'aul quindi c'è tutta la tipizzazione di ciò che sono le relazioni quindi non ho solo la relazione ma la relazione che significa qualcosa cioè quell'elemento è di tipo stringa quell'elemento è collegato con quell'altro non è solo un collegamento punto ma dietro al collegamento c'è il significato sono appunto anche Angela ha colto molto bene anche la differenza tra il linguaggio di rappresentazione e la modellazione quindi questi sono come dicevamo anche l'altra volta dipende di volta in volta che cosa devi fare come dicevi anche tu se devi analizzare un testo probabilmente anche la struttura la struttura appunto sequenziale ad albero ti può andare anche bene a seconda cosa devi rappresentare come e che tipo di interrogazione devi fare se devi fare altro con l'ontologia puoi cogliere certi modelli seman c'è certa appunto certi concetti che probabilmente li rappresenti meglio se hai certa relazione all'interno e sopra il testo e tra le parti del testo che magari con una struttura sequenziale non riesci a cogliere però è bello ma troppo dargli certo grazie grazie Daria ci stimola a riprendere il discorso in altre occasioni eh infatti infatti Daniele se vuoi dire brevemente qualcosa ci avviamo verso sì tornando al problema diciamo della filologia e del rapporto con la semantica noi la guardiamo soprattutto nei termini dell'espressione cioè la semantica è funzione dell'espressione che studiamo non studiamo la semantica non siamo filosofi però in questo ambito magari può essere utile pensare a unire da un lato il concetto del grafo come modellazione e dall'altro quello del significato lessicale delle parole cercando di rappresentarlo come un grafo nel senso che sappiamo che non solo le parole cambiano nel corso del tempo ma ogni significato ha senso solo in quanto quel significato entra in rapporto con tutti gli altri significati del sistema linguistico quindi se noi abbiamo in latino due parole per nero e due parole per bianco e in italiano ce ne abbiamo una sola è perché diciamo tra i campi semantici delle parole sono diverse e questo lo possiamo modellare con una serie di triple diciamo così con un grafo comunque in cui definiamo dei tratti semantici elementari che possono essere associati a più parole un po' quello che fa WordNet che però rimane sul piano dell'espressione perché lo fa con sinonimie antonimie e relazioni di questo tipo che chiaramente poi riflettono la semantica che c'è dietro però diciamo l'ideale sarebbe pensare a un tipo di lessico che sia rappresentato come un grafo di tratti semantici e che si possa poi collegare alle parole che portano questi tratti semantici nel loro campo però questa è una cosa che richiede un lavoro di equip molto lungo e chiaramente poi il lessico evolve nel tempo insomma chiaramente non è mai la stessa cosa il referente cambia di continuazione quindi è un problema molto complesso però è un problema che si pone anche nella traduzione da una lingua all'altra perché chiaramente non esistono due sinonimi nella stessa lingua a figurarsi una parola equivalente a un'altra per cui magari il vitello in inglese c'è calf che è l'animale vivo e vil che è la carne di vitello mentre noi abbiamo una parola sola quindi qui ci vuole necessariamente il grafo e poi un sistema di grafi rapportato per una lingua rispetto a un'altra oppure per l'evoluzione della lingua nel tempo certo certo grazie Daniele e non lo so se volete dire se Cristian e Paola vogliono dire una parola conclusiva chiudere con uno slogan con qualcosa di scioccante no già lo slogan l'avevo detto alla fine del mio intervento c'è che bisogna gettare la scala per trovare altre scale cioè quello che appunto propone Paolo e che poi è stata un po' la discussione anche è che noi adesso abbiamo un modello abbiamo lavorato XMLT DSL è un nuovo modello però bisogna sempre anche discutere rimodellare ripensare per esempio una delle cose su cui io vorrei studiare nei prossimi mesi i prossimi anni è proprio l'ontologia le relazioni i grafi perché secondo me può essere una risposta a molti di questi quesiti magari integrando con già quello che è stato fatto trovando appunto delle quindi una questione propositiva proposito dello sconforto di Paolo c'è tanto da lavorare ma è anche appassionante farlo volevo dire la stessa cosa Cristian veramente mi hai rubato e applicarlo ho preso tantissimi appunti è molto stimolante anche per un ambito appunto di nicchia che può essere l'epigrafia digitale tantissimi input speriamo appunto di indirizzarli verso dai un obiettivo certo certo grazie a tutti è stato veramente molto molto interessante ma anche molto piacevole esatto ha fatto un piacere anche a me rivedere Cristian che era da un sacco di tempo che non ci vedevamo speriamo di fare qualche incontro anche a Venezia di continuare a dialogare grazie mille per l'invito per tutto grazie però possiamo anche fare un po' di pubblicità Cristian il prossimo incontro cioè speriamo di rivederci a Venezia ma sappiamo che ci rivedremo a Catania esatto ci rivedremo a Catania a tal proposito stiamo iniziando adesso arriverà a comunicazione spero anche a UCD eccetera una serie di incontri anche con UCD patrocina di UCD e dall'Università di Catania dal CINUM inizierà Paolo a proposito mercoledì sulla questione della didattica digitale e poi arriveremo ci sarà Ciotti e a maggio Fiormonte e poi Federico insieme a Marina Buzzoni e a Franz Fischer che concluderà sulla filologia digitale su questi 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 siti quindi se volete venire ci farà un enorme piacere grazie Federico per tutto e grazie a tutti per grazie a tutti e ciao grazie ciao